Chi nomina? Nominam Patrizia perché mi ha nominato. Ah e poi? Siciliano, Siciliano, Siciliano. Poi? Da svendurata femmine. E poi perché? Perché mi ha nominato. Ah vero? Nominam Domenico. Domenico perché è un sbirro? Mi posso fare le canne, sì. Ah mica! Tu Antonea, chi nomi? Nessuno. No, 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 no. Non c'è proprio Domenico. E perché? Perché sono gli unici maschi. E tu Rumi, a chi nomina? Lei ha fatto solo una nominace. Chi vuoi? A me Domenico. Tu Domenico, a chi vuoi fare questa casa qua? Domenico. Domenico. Rumi, cerca di svegliarti un po', ok? Fatti acqua a te. Ma che stai dice? No, no, no. Ma che stai dice? No, no, no. Ma io questo qua da Lucille. E là, e là? Domenico. No. Chi nomina Domenico? Perché? 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 Buongiorno a tutti.